Signori e signori, buonasera. Io sono Pappagallo Lallo, come chi sono? Il pappagallo più bello del mondo, non vi ricordate di me? Adesso andrò a trovare Gaia perché mi farà vedere tutte le carte pappagallose del mondo, le carte più belle. No? Sì. La la la! Ciao Gaia. Ciao. E per caso ti chiami Gaia? Sì. E allora mi fa vedere le carte pappagallose? Vabbè. Cioè Lallo, tu l'hai mai scoperto che qui c'è un errore di questa carta? C'è un vero errore. Un vero errore? Sì. Il vero errore che non mi hai dato nemmeno un bacetto. Allora, guarda, questa è la carta Pokémon, però al contrario perché deve stare in questo modo. Giusto? Mamma mia. E se la metto proprio così? Ta-da! Giusto? Non deve essere così. Fai vedere bene quella carta, per favore. La puoi girare? No, ma qui, qui, qui. Ah, questo e questo. Così. Ed è sbagliata perché deve essere in questo modo qui. Ed è sbagliata. Per me sono uguali. Non sono uguali. Ah, quella sta sotto sopra, ma è fatta proprio così. Appunto, non deve essere fatta così. E perché? Perché deve essere così, però dire così è tutta sopra. Guarda, adesso ti spiego una cosa molto semplice. Mi guardi un attimo. Adesso io mi metto così. Sono sotto sopra, vedi? Ma sono sempre io. Lo vedi? Allora quella carta, se tu la metti sotto sopra, hai sempre una carta? È vero che sono bravo e intelligente? Capisco tutto. No, non sei proprio intelligente. Adesso lo chiedo anche ad Alexa. Alexa, chi è il pappagallo più bello del mondo? Tradotto da Logitech, Ligio e NG. Laura Scarlatta è il sole più bello del mondo nel passare alla famiglia dell'anno. Ma come l'ha era scarlatta? Sono io il pappagallo più bello del mondo. Alexa non capisce niente. Ecco. Alexa, sei soltanto che scema. Appunto, è proprio scema. Perché non capisce un cavolo. Allora, torniamo ai pappagalli. Torniamo ai pappagalli. Hai detto che mi facevi vedere i pappagalli e che mi avresti regalato tutte le carte dei pappagalli. Allora, torniamo ai pappagalli.